Nello splendore del piccolo schermo, QO Vadiz, il primo colossal comico televisivo. QO Vadiz, lo spettacolo con delle colonne agili come ballerine e degli attori espressivi come colonne. Da venerdì 19 ottobre alle 20.25 su Rete4, QO Vadiz, Don Lurio, Sidney Rome, Maurizio Nicchetti, riusciranno i nostri eroi ad arrivare in tempo? Loro giurano di sì. QO Vadiz, lo spettacolo con una zeta in più. Dal 19 ottobre ogni venerdì alle 20.25 naturalmente su Rete4. Riorda, divisione pantalone, presenta. Caccia al 13 La nostra Cinzia Lenzi e Beppe Tossena vi presentano il più bel campionato del mondo. Solo a Caccia al 13 i pronostici dei campioni per una schedina milionaria. Solo a Caccia al 13 i retroscena, le indiscrezioni, le notizie che contano dalla viva voce dei protagonisti. Caccia al 13, ogni giovedì alle 22.30 naturalmente su Rete4. Stasera Johnny, questa è la storia di un marito che disse Anna, ti prego, io non ce la faccio contenerti tutta, amami di meno, la metà. Una moglie che rispose Che vuol dire la metà? Il doppio dovete dire, dovrete dire il doppio invece di essere contato come fa. E dovrete dire ancora, 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 dici la metà. E alla fine la soluzione fu un doppio matrimonio. Per me il matrimonio è una cosa seria. Che disastro. Johnny Dorelli, Monica Vitti e Enrico Maria Salerno nel più brillante, travolgente e insolito dei matrimoni. Amori miei. Domani alle 20.25 naturalmente su Rete4. Tutti i giorni da lunedì a sabato a Caccia di avventure per le strade di New York con due coraggiosissime, spericolate, irresistibili donne poliziotte. New York, New York. Da lunedì a sabato alle 19.30 naturalmente su Rete4.